Ciao a tutti, sono Gigi Beghetto, volevo fare gli auguri al Treviso e a tutti i suoi tifosi per questo appuntamento importante di 115 anni di storia. Sono orgoglioso di farne parte, ho passato gli anni più belli della mia carriera e ho ricordi che porto nel cuore del grande affetto della gente. Mi viene ancora in mente spesso questa calzoncina, rase a te a testa, ligate a scarpe. Auguro comunque al Treviso di tornare presto tra i professionisti, un abbraccio grande e sempre Forza Treviso. Ciao a tutti. Buon compleanno Treviso, 115 anni, una vita, una storia e sei di questi li ho vissuti intensamente, un ricordo strepitoso. Auguri a tutti i tifosi, auguri al Treviso e sempre Forza Blu. Ciao, sono Marco Borriello, volevo fare tantissimi auguri al Treviso Calcio per i suoi 115 anni. Siete sempre nel mio cuore. Un saluto caloroso a tutti i tifosi, un grande in bocca al lupo per il futuro. Treviso sarà sempre nel mio cuore perché è stata la società che mi ha fatto crescere, mi ha fatto maturare e mi ha lanciato nel grande calcio. Ciao a tutti. Ciao, sono Giovanni Bosi, volevo fare i miei auguri al Treviso Calcio per i suoi 115 anni. Mando un abbraccio caloroso a tutti i tifosi che come me hanno il Treviso nel cuore e Forza sempre Treviso. Ciao. Caro amico mio, sono venuto qui a trovarti. Tante emozioni abbiamo vissuto assieme. Buon compleanno. Tante altre ne potremo vivere ancora. Grazie di tutto perché mi hai sempre ospitato e ci siamo voluti bene. Ciao e buon compleanno. Ciao a tutti. Oggi il Treviso compie 115 anni. Un traguardo prestigioso. Onorato di aver vestito questa maglia per 5 anni. 150 partite. Vi mando un grande abbraccio e vi faccio un forte in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Forza Treviso! Ciao a tutti. Fabio Gallo. Roberto Chiappara. Siamo assieme, stiamo lavorando all'Intella. Sappiamo che tra qualche giorno si festeggeranno i 115 anni della storia del Treviso. storia che ci ha dato la possibilità di far parte con stagioni memorabili e indimenticabili. E quindi volevamo augurare a tutti i tifosi del Treviso tanti tanti auguri di una crescita ancora maggiore rispetto a quella che c'è adesso con la speranza, non si sa mai, magari di rincontrarci. Tanti auguri. Un abbraccio a tutti. Treviso Calcio, il mio primo grande amore. 115 anni di storia, tanti, tanti auguri. Un abbraccio forte a tutti i tifosi bianco celesti con la speranza di rivedere il nostro Treviso sempre più in alto. Ciao e in bocca al lupo Treviso. Auguri Calcio Treviso, 115 anni, portati alla grande. Un saluto a tutti i tifosi e sempre Forza Treviso. Tanti auguri al Treviso. Un abbraccio e un saluto a tutta la città. Ciao a Fioi, da Andrea Ferretti. Ciao a tutti e a voi, tifosi del Treviso. Tanto vi auguro buon anno. Quando non male che quando si parla di Treviso si parla degli anni bellissimi trascorsi nella vostra città. dove ho dei ricordi indelebili, oltre che sportivi, anche familiari, dove quell'11 maggio del 97 un ricordo troppo forte per me e per la mia famiglia dove è nato anche mio figlio. C'è stata la moderazione di Sarebì. Ciao a tutti. Buonasera a tutti. Faccio auguri al grande Treviso in cui ho fatto tre anni, quattro anni, bellissimi. Non guardate quella maglia dietro, guardate questa. Guardate che bella, quello che abbiamo vinto al campionato. Di nuovo auguri al grande mio Treviso. Un abbraccio a tutti i trevigiani e soprattutto i tifosi. Ciao Treviso. 115 anni di passioni e di amore incondizionato. Buon compleanno Treviso sui club. Ricontinua a darci le stesse emozioni e le stesse soddisfazioni. Auguri. Ciao a tutti. Tantissimi auguri. Volevo fare così. Ho il piacere e l'onore di fare gli auguri a questa società straordinaria, e società straordinaria città dove ho avuto la fortuna così di far parte qualche anno fa, la fortuna di far parte di un gruppo eccezionale, di una società veramente, penso, straordinaria e una città che mi sono tifosi e ancora resteranno sempre nel mio cuore. Io auguro al Treviso di ripetere quell'impresa e sicuramente con questa società e con questa squadra possono raggiungere questi risultati perché lo stanno dimostrando. E niente, io spero che i prossimi 115 anni siano ancora pieni di questi successi e sicuramente sarà così. E niente, tantissimi auguri. Saluto i tifoni del Treviso che sono dentro sempre nel mio cuore. E niente, dai, sempre forse al Treviso. Ciao a tutti! Il Treviso compie 115 anni. 44 di questi anni li ho passati con il Treviso, quindi il mio cuore è metà bianco e metà celeste. Sempre forse a Treviso e un grande abbraccio alla grande famiglia del calcio Treviso. Buon compleanno Treviso. Sei un capricorno come me e il destino ha voluto unirci nell'anno più bello, quello della promozione in Serie A. Tantissimi auguri a tutti i tifosi bianco e celesti. Faccio gli auguri a Treviso Calci che oggi compie 115 anni. Sono orgoglioso di aver fatto parte di questa grande storia. Un abbraccio a tutti i tifosi e sempre forse a Treviso. Aver fatto parte dei 115 anni di storia del Treviso mi rende orgoglioso. Tanti auguri di buon compleanno. Forza Treviso! Tanti auguri al calcio Treviso per i suoi 115 anni di storia. Sono orgoglioso e onorato di aver fatto parte di questo percorso calcistico e di aver contribuito anche alla storia di questo club. Ricordo le tre promozioni di fila dalla Serie D poi siamo andati in Serie B e ricordo con grande entusiasmo la promozione in Serie A anche se è venuto ancora in pescaggio ma sempre una promozione A. Vi saluto caramente da un trevisiano che è sempre amante della sua squadra che è il Treviso naturalmente e che ho fatto parte. Grazie a tutti. Un gran caro saluto da Beppe Pilon. Ciao, sono Loris Pradella. Volevo fare gli auguri alla società del Treviso Calcio per i 115 anni. Società che mi ha permesso di chiudere in maniera brillante la mia carriera portando la squadra insieme ai miei compagni dall'Inter regionale alla Serie B. Una cavalcata che credo che ad oggi ancora nessuno ha mai fatto in Italia. Pertanto abbraccio ai nostri tifosi e con l'augurio che il Treviso possa ritornare a livelli che gli compete. In bocca al lupo e buona fortuna. Ciao a tutti i tifosi bianco celesti. Volevo unirmi anch'io all'anniversario per il 115esimo compleanno del Treviso FBC 1993 e vi aspetto allo stadio. Ciao! Buon compleanno Treviso FBC 1993. Sono orgoglioso di essere stato il fautore della tua ricostruzione rinascita nel 2019 portandoti in Serie D dopo ben dieci anni. Auguri per un futuro glorioso con nuovi successi nei campionati in cui ti meriti di competere. Forza Treviso! Tanti auguri Treviso Calcio per i tuoi 115 anni di grande storia con la consapevolezza che sicuramente i prossimi e i futuri saranno migliori. Avanti Blu! Ciao! I migliori auguri al Treviso Calcio per i suoi 115 anni di storia. In bocca al lupo poi proseguo a Tidio e Marco. Ciao! Sono Luca Toni e volevo fare anch'io tanti auguri a questa società. Al Treviso è stata una società importante per me perché mi è servita per diventare un calciatore e un uomo migliore. Quindi un grande saluto a tutto Treviso e a tutti i tifosi del Treviso. Ciao! Ciao a tutti! Sono Giuseppe Torromino Anche io ci tenevo a fare i miei più sinceri auguri al grande Treviso. Colgo l'occasione per abbracciare tutti i tifosi. Vi mando un forte abbraccio e sempre forza Treviso! Sono molto contento di poter fare gli auguri al calcio Treviso. Ho passato due anni in una città stupenda con dei tifosi magnifici. sono stati ricchi di grandi soddisfazioni e auguro di proseguire in futuro con altre tante belle gioie da poter condividere. Io ho dato ho cercato di aggiungere ai miei giocatori cuore e passione in modo tale che potessero imbedesimarsi alla tifoseria in quel periodo. E mi auguro che queste siano le basi anche per continuare una vita gloriosa. Tanti auguri a tutto il Treviso Calcio. Ciao!